C'è un movimento perpetuo, ecco che inizia il processo mentale di cui parlava Leonardo. Allora l'arte non è più la pittura che facciamo noi, che cerchiamo di imparare ancora noi. L'arte è pensiero, è qualche cosa che si sposta e diventa un'operazione mentale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Al prossimo episodio